E' tornato d'attualità il tema dell'utero in affitto, perché ci sono le solite centrali progressiste che continuano a fare passare questa pratica come dimostrazione del progresso, della capacità dell'uomo di emanciparsi anche dai limiti naturali, accusano tutti quelli che criticano questa pratica come dei retrogradi delle persone rimaste ancorate a un mondo oramai superato. Cos'è l'utero in affitto? L'utero in affitto è un termine improprio che io non uso, preferisco gravidanza per altri perché l'utero in affitto in realtà crea un'illusione, crea due illusioni, che l'utero sia l'unico organo che resti coinvolto, in realtà tutto il corpo della donna resta coinvolto, ogni cellula della donna sa che la donna porta una gravidanza e la sua mente lo sa benissimo, di gravidanza è parto, si può morire e non solo, ma se io affitto qualche cosa, per esempio se io ti affitto il mio appartamento tu poi me lo restituisci tale quale come io te l'ho dato, oppure quando mi danno una macchina e io quando la restituisco deve essere pulita carene in ordine, invece no, ci sono donne che sono morte addirittura per questa pratica. Si pensa che sia una pratica innocua, una pratica gravissima. Se una donna usa lo sperma di un uomo per fecondarsi, porta una gravidanza che non ha i rischi aumentati rispetto ad una gravidanza normale. Se invece l'utero e l'ovulo sono di due donne diverse, abbiamo una serie di spaventosi danni iatrogeni. Col termine iatrogeno si intende una malattia causata dalla medicina, dai medici. La medicina è nata per curare i malati. Nel momento in cui la medicina fa malari sani, allora siamo di fronte a un crimine. La cosiddetta donazione di ovuli è un termine completamente idiota. Gli ovuli non si donano, gli ovuli si vendono. Si vendono attraverso una pratica estremamente dolorosa e pericolosa. Dato che le donne fabbricano un ovulo al mese più o meno, e questo non è sufficiente, le si sottopone a una iperstimolazione ovarica, perché per poter prendere molti ovuli. Si può quindi avere una sindrome da iperstimolazione ovarica. La donna prende una sberla di ormoni, questi ormoni per inciso, tanto per chiarire, come gli ormoni della pillola, la pillola del giorno dopo, l'aborto chimico, la pillola di 5 giorni dopo, sono tutti ormoni che finiscono nelle urine, quindi finiscono nello sciacquone, dalle sciacquone finiscono nelle fogne, dalle fogne finiscono nei fiumi, nei laghi e nel mare. Abbiamo uno spaventoso inquinamento da estropogestinici, per carità ci sono anche gli allevamenti che si stanno dando dell'oro, ma abbiamo intere le specie di pesci che si sono gestinte. Torniamo alle iperstimolazione ovarica che è cronosamente antifisiologica, dico antifisiologica perché forse il termine contronatura vi sembra un po' greve, sull'antifisiologico mi pare che non ci piova. Può causare un ingrossamento dell'ovaio che può arrivare a dimensioni di un pompelmo, a volte anche di un melone, quindi poi si torce sul peduncolo e bisogna sportarlo di corsa. Inoltre causa una maggiore permeabilità dei vasi. I vasi diventano più permeabili, quindi il sangue che è costituito da una parte liquida e una parte cellulare, globi rossi, globi bianchi, piastrine, si scompone, una parte della sua parte liquida esce dai vasi, cioè delle arterie delle vene e si spara panza dove trova spazio, cioè in tre luoghi, che sono il peritoneo e abbiamo dell'acqua nel peritoneo, tecnicamente idroperitoneo. Ci sono donne che sembrano incinte di 5 mesi, con queste pance piene di ascite enormi, con la pressione che arriva a 70 se va tutto bene. Oppure si spara panza nel torace, per cui queste donne non riescono più a respirare perché il pomone non riesce a espandersi o si espande direttamente nel pericardio, lì sono veramente cavoli e bisogna intervenire subito. All'interno delle vene delle arterie, globi rossi, globi bianchi, piastrine, restano all'asciutto, abbracciati l'uno all'altro e quindi tendono a fare trombi. La sindrome dei per stimolazione ovarica è una malattia che può avere conseguenze tromboemboliche, quindi possiamo avere infarti, possiamo avere ictus, possiamo anche avere la coagulazione intravasale disseminata che è una patologia mortale, per cui ci sono alcune donne che sono morte, una sola sarebbe già troppo eppure così continua. Tutti questi ormoni possono favorire il cancro della mammella e del colon sulle lunghe distanze, ma non abbiamo i dati perché nessuno segue queste donne a distanza. Per quanto riguarda la donna dentro cui si innesta la gravidanza, anche qui c'è un'altra sberra di ormoni perché questa gravidanza si attecchisca, quindi anche qui abbiamo un aumento del rischio di cancro del colon da mammella e secondo molti studi è anche un rischio nel nascituro di aumento di alcuni tumori, in particolare il nefroblastoma e il nefroblastoma. La gravidanza così partita, questa gravidanza aliena, aumenta il rischio di aborto, aumenta il rischio di gravidanza estraterina, che vuol dire aborto e un intervento chirurgico e aumenta anche il rischio di parti prematuri. Per inciso torniamo alla donazione tra virgolette di ovuli, c'è un bel documentario che si intitola Egg's Protection, cioè frutto di ovuli, guardatevelo. Gli ovuli sono dentro la pancia, gli spermatozoi sono dentro i testicoli ma escono attraverso il pene, quindi per tirare fuori degli spermatozoi e vendersi, gli basta masturbarsi su una provetta guardando ioporno, quello che voi preferite, ma gli ovuli sono nella pancia che è all'interno, quindi per prendere una roba che è dentro e portarla fuori ci va un qualche meccanismo cruento, cruento è un termine tecnico che vuol dire dove si perde sangue. Quindi sotto controllo ecografico si fanno prendere gli ovuli passando per via vaginale così non lasciare cicatrici, è vero, ma c'è stata la sindrome di prestimolazione ovarica, il che vuol dire che tutti i vasi sono fragilissimi ed è molto facile che si abbia un emoperitoneo, cioè un'emorragia all'interno del peritoneo. Anche questa gravidanza che è portata per altri ha tutti i rischi aumentati perché è qualcosa di completamente antifisiologico. quindi lo fate per amore perché questi bambini li amate tanto così che li fate nascere in questa caspita, meno male che li amavate, figuratevi se li odiavate, ok, non si può pagare un lavoro potenzialmente mortale e sarebbe sufficiente una sola donna morta. Seconda cosa, le donne non vengono pagate, no per carità, quelle in India, quelle in Nepal, certo, anche in Nigeria è stata trovata una fabbrica di bambini con le donne incatenate a letto, vabbè insomma ragazzi, l'Ucraina, lasciamo a perdere. Per quanto riguarda la gravidanza solidale, la gravidanza solidale è peggio. Per un bambino è gravissimo mia mamma mi ha venduto, mia mamma mi ha dato via gratis, è ancora peggio. Se mia mamma mi ha venduto per 15 mila dollari, che è quello che tocca a lei di quel pacchetto, almeno io valgo 15 mila dollari. Se mia madre mi ha regalato, io valgo nulla. Tra l'altro, esistono donne che regalano questo, in genere della gravidanza solidale è una burla, ti danno i quattrini ancora meno di quanto ti ne danno normalmente, spacciandoli per l'imborso spese. Ma se anche fosse vero, signore, voi potete vendervi o regalare il midollo, così salvate la vita a un leucemico, un rene, ma non qualcosa che non vi appartiene, e cioè il diritto di un bambino di avere il padre e la madre, il suo padre e la sua madre e la sua mamma. I bambini adottati hanno il cuore ferito. Andate a chiedere ai gloriosi e eroici genitori adottivi cosa vuol dire avere un bambino adottato, un bambino che ha già la ferita dell'abbandono, già una ferita di non essere stato voluto. È qualcosa di terribile. La maggioranza degli utenti di questo scempio sono coppie eterosessuali. Quindi è una donna che va a rubare un'altra donna le vene varicose, il vomito, i dolori del parto, la possibile morte, a volte il diabete, a volte un'insufficienza renale che resta dopo la gravidanza. È vero, ma almeno questi, le coppie eterosessuali, non rompono l'anima. Non vengono a spaccarti l'anima dicendo che quello lì è un loro diritto, che anzi i loro bambini sono meglio degli altri. Non vengono a romperti l'anima dicendo che non vogliono la festa del papà, la festa della mamma. Non si permettono di romperti l'anima come ha fatto Nicola Vendola dicendo ah guardate sapeste che belli occhioni che ha la donna che abbiamo scelto sul catalogo. E adesso a proposito di gravidanza scolidale vorrei fare un'ultima osservazione. La signora Elena Sklein, che si chiama Elena Sklein, non Ellis Line. Un personaggio politico non può essere chiamato con un diminutivo. Nicchi Vendola, Ellis Sklein, tra l'altro io che scrivo non mi ricordo mai chi va la Y, non ci va la Y, ma che caspita, col diminutivo ti fai chiamare da tua mamma e da tua sorella se ne hai una, oppure da quelle della tua parte. Non si chiama mai con un diminutivo perché aumenta questa sensazione di benevolenza, di familiarità Elena. In italiano il suo cognome si pronuncia Sklein. Da noi l'SCL è duro, in più ci ha messo un H ancora più duro. La signora vuole che si pronunci Sline, se ne va negli Stati Uniti o dove si pronuncia in maniera corretta. La signora Sklein ha una cittadinanza statunitense, è stata negli Stati Uniti per organizzare la campagna di Obama. Negli Stati Uniti tutto questo è permesso. Questa signora ha due meravigliose ovaie piene di ovuli di ottima qualità, ha un utero sanissimo. Perché non ha portato la gravidanza di due metalmeccanici gay? Oppure adesso perché non porta la gravidanza, se ne va negli Stati Uniti qualche mese, di due spacciatori nigeriani gay, che al loro paese sono perseguitati in quanto gay, qui sono perseguitati in quanto spacciatori, sono dei perseguitati, cari al suo cuore. Io voglio vedere la signora Sklein. Perché la signora Serracchiani non ha mai pensato di andare sei mesi negli Stati Uniti a fare questa cosa, eccetera? Perché Nicola Vendola non gli è neanche venuto in mente di chiedere a una compagna di partito? Certo in Italia non è permesso, bastava spostarsi l'estero, non così terribile, invece che scegliere sul catalogo. Forse le compagne di partito non erano abbastanza venenti. È una pratica terribile. Quando noi andiamo a chiedere alle persone nate così e vissute così come stanno, ci sono delle crisi di identità spaventose. Per quanto riguarda i figli di coppie ottusamente monosessuali. Il termine famiglia arcobaleno è un altro termine ridicolo, arcobaleno, ma dove? Sono coppie ottusamente monocolore, fatte da gente completamente incapace di accettare la diversità. Le donne a comportamento lesbico non sono capaci di accettare la diversità del corpo di un uomo, volete che possano accettare la diversità di un figlio? Gli uomini a comportamento omoerotico, in termini cattolici sodomitico, non sono capaci di accettare il corpo di una donna, quindi non possono diventare padri. Se desiderano diventare padri, vuol dire che il momento è arrivato di smettere questo comportamento, che è un comportamento che può essere modificato, è di cercarsi una donna. Gli studi fatti da Rekneros e anche da altri ci dimostrano che i bambini sono nati in queste condizioni. Addirittura un quarto di loro sono arrivati all'età adulto avendo già contratto una malattia sessualmente permessibile e hanno il doppio dei ragazzi di disoccupazione, perché non sanno muoversi nel mondo. Quindi bisogna guardare gli adulti. E quando noi leggiamo quello che loro scrivono, scrivono che certo sono legati al genitore che li ha generati e magari anche al suo compagno o alla sua compagna, da affetto, e anche la gratitudine di averli messi al mondo, ma che assolutamente loro si sono resi perfettamente conto che sono stati messi al mondo per fare una battaglia. Un'ultima cosa, quando un bambino ha paura, tu sei padre, lo sei benissimo, sto avventato, gli incubi, a freddo, va a cacciarsi nel lettone di papà e mamma. Se si caccia in un lettone dove tutti hanno il pene e nessuno ha le mammelle, c'è qualcosa di più fondamentale che non quadra. Anche perché il nostro corpo, il corpo di noi donne, è in grado di ospitare una creatura umana nelle sue viscere. La nostra mente è fatta nella stessa maniera, noi abbiamo le mammelle, le mammelle per nutrire. Senza le mammelle della madre, il bambino non campa, è solo da pochi decenni che esiste l'arte artificiale, la possibilità di sfardagli e di trovare la baglia, ma se guardiamo nel paleolitico, mamma, morivi. E quindi tutto il nostro cervello è fatto su questo accoglimento, sul piacere che noi proviamo a nutrire il bambino. Quindi dove non ci sono mammelle non c'è tutta questa capacità di accoglienza. Il nostro cervello resta sempre imparzialmente libero per sentire il pianto del bambino. Pensate che quando si allatta, quando noi sentiamo piangere il nostro figlio, le nostre mammelle cominciano a produrre latte. Se quel giorno ti sei messa la camicetta di seta è una pacchia, comunque va bene. Quindi noi mandiamo un bambino dove nessuno ha le mammelle e tutti hanno il pene. Vuoi raggiungere un'altra cosa. Un bambino può essere allevato da due uomini bene? Sicuramente sì. Mio suocero è stato allevato da due uomini. Sua madre era morta di parto e lui è stato allevato dal padre e dal fratello maggiore, fratello che aveva 16 anni più di lui. Un sedicenne era un uomo, non era un ragazzo. È stato allevato benissimo. Ma lui mi ha sempre raccontato di questo dolore che aveva, che non aveva la mamma. Per cui, e la sua mamma non era stata negata. La sua mamma era morta. Ma in casa c'erano le fotografie, ne conosceva il nome, conosceva le zie e le sorelle della mamma e la nonna, la mamma della mamma. E lui mi raccontava come lui aspettava la domenica, perché la domenica il babbo li portava a messa e dopo la messa al cimitero. E lui finalmente poteva posare la manina sulla tomba della mamma. E la mamma era morta, non era stata negata. In questi bambini la madre è negata e loro devono fare attenzione a non ristabilizzare i genitori parlando del dolore del genitore mancante. Quindi vivono in un mondo ottusamente monocolore, incapaci di accettare diversità e rinchiusi nel silenzio e nel menzogna. Silvana, come spieghi tu questa ossessione dei poteri dominati nel cercare di imporre dei modelli che sono chiaramente contrari all'ordine naturale delle cose? Guarda, in questo libricino, Sodoma distrutta, lo trovate solamente sul mio sito www.emporiasdm.com, sono riportate tutte le affermazioni dei papi, di re, ma anche dei papi, di santi, della città, sulla sodomia, che non è un comportamento genetico, è un comportamento acquisito che si può perdere, perderlo, necessita una gran fatica, ma si può perdere, che moltiplica le malattie sessualmente transmissibili e le malattie gastroenterologiche di tutta la popolazione. Da quando l'Uganda ha proibito la sodomia, le malattie sessualmente transmissibili sono crollate, perché attraverso i bisessuali arrivano anche le donne e i bambini. Nel momento in cui affermo che la sodomia è bella, io uso il termine sodomitico perché sono cattolico, ho una costituzione che mi garantisce la libertà di religione, nel momento in cui affermo che la sodomia è bella, vuol dire che Cristo è torto e Cristo deve essere evitato. Quindi le eliti in questo momento hanno un quadro di annientamento delle civiltà cristiane, sia attraverso la diminuzione della popolazione, sia attraverso linee culturali, linee culturali filo-islamiche. Ricordiamoci che nel 1974 il patto fatto da comunità europea dove riconosce che tra gli scopi della comunità europea c'è l'islamizzazione d'Europa attraverso immigrazione massiva e attraverso modificazioni delle linee culturali. Se non lo conoscete questo lo spiega Betty Ayor in questo libro che si intitola Eurabia, lo trovate sempre sullo stesso sito www.emporiasdm.com, stiamo cercando di mettere insieme una biblioteca su questo sito di libri acquistabili dove vi spieghino come la nostra civiltà è sotto attacco e deve essere cancellata. Basta vedere il nuovo premier scozzese che è islamico, quindi nella stessa Gran Bretagna dove è concessa parola alle scuole islamiche dove si spiega che le persone a comportamento omerotico devono essere lapidate, per carità di Dio, invece questo qui attacca i cattolici proprio su temi LGBT, quindi il cattolicesimo viene messo con le spaglie al muro su temi LGBT per favorire l'islamizzazione. C'è un problema con il collegamento con Silvana De Mari, è caduta… Silvana per un attimo non ti vedevamo più, mi senti? Ti sento, però a questo punto devo lasciarvi. Ecco, l'ultima domanda, se puoi cinque minuti e ti libero, mi dispiace che è cominciata con un quarto d'ora di ritardo questa intervista, non per colpa tua. Volevo sapere da te cosa pensi del dibattito interno alla Chiesa cattolica rispetto all'accettazione o meno alla benedizione delle coppie omosessuali. Tu sai che spesso Papa Francesco viene accusato di essere un riformatore che in certo modo sta picconando la dottrina, però sembra un moderato di fronte alle proposte ad esempio dei vescovi tedeschi che, capitanati dal cardinale, mi pare che sia il cardinale Marx, stanno cercando in tutti i modi di portare le posizioni ufficiali della Chiesa su una linea molto più avanzata anche rispetto a quello che dice e pensa Francesco. Cioè paradossalmente il dibattito vero dentro la Chiesa non è tra Francesco e i conservatori, ma tra Francesco e quelli che invece vorrebbero un'accelerazione ancora più violenta nella direzione dell'accettazione di queste prate. Questo è un trucco comunicativo. Il dibattito tra Francesco e i tradizionalisti non può esserci perché Francesco, che è uno che gronda misericordia a tutti gli artigli, i tradizionalisti li ha già zannati in faccia. Basta vedere, su uno dei suoi primi gesti è stato sbaragliare i francescani dell'Immacolata, che avevano 400 seminaristi. Pensate che in questo momento in tutta l'Argentina ci sono tre seminaristi, uno, due, tre e che non avremo comunque la prossima generazione di sacerdoti. Il trucco del io fingo di essere moderato e tu fingi di essere estremista è un trucco estremamente interessante da un punto di vista comunicativo e chiaramente una balla. Un vero Papa, Marx, avrebbe già scomunicato e il problema finiva qui. Ricordo e vorrei concludere ricordando Assange, il giornalista che è in una situazione tragica per aver osato dire la verità. Assange ritirò fuori delle mail del 2013 tra le parti più, posso dire, sataniche, perché sono coinvolti in riti di satanismo ufficialmente, del Partito Democratico statunitense, che sono Hillary Clinton e John Podesta, che si dicevano noi dobbiamo scatenare una primavera colorata nella chiesa, così da battere uno scolantismo medievale e affermare la parità di genere, cioè i temi LGBT. Quindi ci sono ben tre libri in questo momento che spiegano che Francesco non è Papa. Uno è Opzione Benedetto di Cionci, che spiega come la sua abdicazione sia assolutamente invalida e questo è anche affermato da una giurista argentina che ha analizzato tutto. Poi c'è un secondo libro della signora Meloni, Giulia Meloni, anche lei sudamericana, che si intitola Mafia di San Gallo, che spiega come ci sia stato un comportamento mafioso nell'elezione, quindi l'elezione è invalida, anche perché sono tutti scomunicati. E il terzo è un libro da professora Dalli, che spiega come da un altro punto di vista teologico l'abdicazione di Benedetto XVI fosse invalida. Quindi in questo momento ci sono ben molti testi che affermano per la sede vacante. Grazie Silvana per essere stata con noi e buona Pasqua. Buona Pasqua con tutto il cuore. E le amici di Visione TV, grazie per aver seguito questa nostra intervista. Se volete aiutare la nostra emittente per fare sempre meglio, per continuare a proporre contenuti originali, donate ai numeri che la Regia ha mandato in sovraimpressione, abbonatevi sul nostro sito www.visionetv.it, a breve nel mese di maggio uscirà finalmente il primo numero del nostro mensile di geopolitica, cultura e attualità, visione, un altro sguardo sul mondo. Grazie ancora a tutti voi e una buona giornata. Grazie a tutti.